Sulle strade abruzzesi si muore ancora troppo e si muore soprattutto mentre si cerca di raggiungere il proprio posto di lavoro. Morti bianche, anche queste. La percezione comune è che gli incidenti stradali e gli infortuni sul lavoro siano fenomeni distinti, mentre le statistiche dimostrano che gli incidenti stradali sono spesso infortuni sul lavoro. Se ne ha parlato nel corso di un convegno dal titolo Sicurezza sulla strada giusta, organizzato dall'INAIL regionale e dalla pulizia stradale. I dati dell'Istat relativi al 2016 mostrano che il 43,33% delle morti sul lavoro in Abruzzo è causata da incidenti stradali. La strada per tanti lavoratori costituisce un aspetto importante della loro vita lavorativa. Parlo degli autotrasportatori, degli agenti di commercio, dei tassisti. La strada è nello stesso tempo anche il percorso per andare al lavoro e per tornare a casa, quindi gli infortuni in itinere. E la strada è anche il luogo di lavoro per molti addetti alla manutenzione stradale. Per cui in questa incidentalità degli incidenti stradali, che sono la prima causa di morte in Italia, oltre 3.000 vittime nel dati Istat 2016, in Abruzzo ci sono stati 76 incidenti mortali. Di questi 76 incidenti mortali ci sono sicuramente anche infortunati INAIL. Ad esempio le denunce di infortunio mortale che noi abbiamo ricevuto nel 2016, che erano 30, attraverso l'analisi del dato, noi abbiamo visto che 13 persone di queste 30, quindi una percentuale molto ampia, che rappresenta il 44% del totale, e questo dato è anche sovrapponibile al dato Italia. Quindi a livello Italia, a livello Abruzzo, il 40% degli infortuni mortali sul lavoro avviene sulla strada. Quindi si tratta di infortuni di itinere, si tratta di autotrasportatori e agenti di commercio, di addetti alla manutenzione stradale, per cui la strada sta diventando un luogo nefasto, un luogo pericoloso.